buongiorno oggi farò un po di fatica non esaltarmi perché questo è un profumo che adoro è un profumo del quale mi sono deciso finalmente a prendere un decant solo un decant e vi spiegherò il perché comunque oggi parliamo di un profumo di olympic orchids che si chiama ciao per chi fosse qua per la prima volta io sono fabrizio questo è decantankerus e qua si parla di profumi un po strani mi sono detto ultimamente il mio canale va un po rilento sono 900 iscritti adesso dopo più di un anno che sono su youtube bisogna far qualcosa di diverso bisogna parlare di cose che portino un po di persone ho detto faccio una siamo vicini a san valentino potrei fare una bella lista di top 10 profumi di san valentino che non ci sarebbe niente di male invece no e invece ho deciso di parlare di un profumo che nessuno conosce o comunque pochi conoscono di cui quasi nessuno parla e che è abbastanza particolare oggi parliamo di un profumo di olympic orchids del 2013 che è stato creato da ellen covey come tutti i profumi di olympic orchids si chiama blackbird appunto in questa piccola fialetta alchemica c'è un liquido marroneo che è uno dei più buoni che io abbia sentito almeno di questo brand le note in questo profumo sono balsamo diabete muschi cedro elemi ma soprattutto una mora una mora la mora all'interno di questo profumo è dolce acidognola è un po aspra è una mora matura è un odore fruttato che si fa sentire tanto risalta tantissimo sul profumo ma non è un profumo soli nota non si sentirà solo questa nota sotto l'odore pungente dolciastro acidulo della mora troviamo come un eco balsamico dato probabilmente dal balsamo diabete e dall'elemi questo balsamo diabete dà anche una sfumatura più verde al profumo infatti diciamo che durante il cuore questo profumo prende una caratteristica una sfumatura un po più verde il balsamo diabete in questo profumo dà appunto una sfumatura più verde quasi mentolata più fresca è un po come se insieme alle more fosse stato spremuto tutto tutto il cespuglio di more troviamo queste sfumature che sono un po erbace ricordano un po delle foglie ma sempre un pochino pungenti sempre un pochino appunto mentolate balsamiche poi c'è una nota legnosa di fondo ma appena appena che si sente proprio sottile sottile quindi il tema principale di questo profumo è appunto la mora ma non è una mora che fa tutto da sola si lascia accompagnare trasformare dalle note che la accompagnano non è però un profumo che rimane timido non si lascia trasformare in modo da perdere la sua potenza è comunque un profumo che rimane molto intenso ha una proiezione molto forte almeno per le prime due ore la durata è abbastanza buona si aggira attorno alle 6 7 ore ma l'odore appunto è talmente forte intenso caratteristico tra quel dolce verde muschiato resinoso che onestamente il suo unico problema è che non lo vedo versatilissimo è fresco e verde ma viene tanto sfumato dai colori caldi della mora è dolciastro e fruttato ma viene tanto sfumato dagli odori più freschi e legnosi quindi non so bene dove collocarlo e questo appunto è il suo problema perché il profumo è molto buono ma alla fine ne ho comprato solo un decant perché non so quando metterlo troppo intenso per il lavoro troppo forte per una cena fuori troppo strano per un incontro galante per dire però questo profumo mi dà felicità io quando l'annoso mi sento bene mi piace è buono mi esalta è un profumo che forse vedrai bene per l'aromaterapia è buono è un profumo buono è un profumo che dà sicurezza è un profumo che mi fa immaginare di essere in un angolino non in un bosco ma in un angolino in mezzo alla natura sicuro protetto tranquillo so che io li posso stendermi lasciarmi andare ad annusare tutti gli odori che voglia godermi il suolo sotto il corpo e non mi capitare nulla però appunto quando lo indosso quindi questo profumo per me rimane da indossare per me stesso se mi rendo conto è un problema mio non è un problema del profumo infatti io vi consiglio di sentirlo perché merita merita tantissimo se poi doveste trovare il momento in cui metterlo fatto questo profumo è grandioso e sono sicuro sono sicuro che vi piacerà tanto andiamo alle prestazioni come dicevo non sono eccellenti non sono enormi almeno come durata la proiezione è più che ottima dura qualche ora la proiezione dura qualche ora poi si avvicina un po alla pelle però ci sono giorni che mi dura anche 8 9 ore altri giorni che dopo 6 ore fatico a sentirlo poi dipende anche cosa fate durante la giornata dove ve lo spruzzate quanto se ve lo spruzzate sui polsi quanto poi li appoggiate in giro come al solito il fatto che davvero la proiezione la scusate la durata varia dalle 6 alle 8 ore comunque buona però visto che tutti pretendono una durata infinita non è un profumo infinito però ne vale davvero davvero la pena a chi consigliare questo profumo a quelle persone che apprezzano i profumi fruttati o a quelle persone che vogliono un profumo che ricordi un po' la natura però è un profumo particolare insomma vi deve piacere però vi piacerà insomma non so che altro dire io questo profumo lo adoro mi riempie davvero le narici il palato si sente è buonissimo gente è buonissimo però non ho più nulla da dirvi quindi vi saluto ci vediamo la prossima volta vi auguro una buona giornata fate i bravi ma non troppo e dai alla prossima ciao